Mario Niedu è quel bambino che grida l'imperatore è nudo però questo bambino non viene sentito perché non ha il microfono cosa voglio dire? molti di noi sentono di poter dare qualcosa agli altri ma a volte non ci riescono io ho cercato nella mia vita una situazione silenziosa nonostante il chiasso dello scalpello una situazione silenziosa in cui presentare dei valori delle realtà in cui credo lavoro esclusivamente per questo Mario Niedu è quello che non ha mai preso l'autostrada l'autostrada ti fa arrivare veloce magari con la spinta anche di qualche carburante di qualche sistema doppato ti fa arrivare veloce la cosa più bella invece è poter arrivare nei luoghi attraversando tutti i centri potendo vedere le panoramiche potendo assaporare il mare e la bellezza della vita certo questo costa grossi sacrifici a tutti i livelli in parte questo è Mario Niedu anche il nostro sito è un nascimento